I navi della Marina Militare Spagnola sono in avvicinamento alle coste italiane. Un livello che mai si era toccato in Europa. Tutte le forze militari del nostro paese sono in stato di allerta. Posso chiederti dove sei stato l'ultima settimana? All'allevamento, a fare il racconto. In questo allevamento non ce l'hai una televisione? Non c'è internet? No, internet non prende. Vai a vedere. Le diplomazie sono un lavoro e spera una soluzione rapida a reagire in caso di attacco. Ma che cazzo? Ma che vi siete tutti impazziti? Hai visto cosa succede? Noi dobbiamo essere uniti. Noi! Papà è preoccupato. Che gli spagnoli ci bombardino con il flamenco e noi gli rispondiamo che i rigatoni a sugo. Dai! Sono entrato in un gruppo di paramilitari. Guardaci! Compriamo smartphone che si guastano dopo due anni. Lavoriamo come stronzi e non guadagniamo un cazzo! Non sai che sei catalogata come sabotatrice? Io posso fermare questa guerra. Mi credi? Sì. Ma quando è che siamo usciti tutti fuori di testa? Forse lo eravamo già. All the boys think she's a spy. She's got a payday for size.